Dopo aver dato i voti ai piloti tocca alle case costruttrici Ducati, Aprilia, KTM, Honda e Yamaha, allora fino adesso Ducati ha dominato in una maniera incredibile 8 gran premi vinti su 9, 14 successi totali se contiamo anche le sprint, veramente quello della Ducati è un dominio totale, ma allora andiamo per analizzare anche cosa stanno facendo le altre case, Aprilia, KTM, chi è la seconda forza in campo per lo meno per quello che si è visto nei primi 9 gran premi e Yamaha e Honda perché continuano a faticare nonostante le concessioni, nonostante i tanti investimenti? Ecco andiamo a vedere casa per casa quello che è successo nei primi 9 gran premi, cominciamo da Honda, per quanto riguarda Honda il voto è 4, la rivoluzione iniziata nel 2023 con cambi ai vertici, sono cambiati i tecnici, sono cambiati i massimi responsabili di HRC, sono cambiati i piloti, sono cambiati tanti, ci sono stati tanti cambiamenti sotto ogni aspetto, ecco però tutti questi cambiamenti non hanno portato niente di concreto per lo meno per il momento. Nella prima parte di stagione, per quello che so io, la HRC ha portato due telai differenti, ha fatto delle modifiche importanti e ben visibili sull'aerodinamica, praticamente ogni gran premio c'era qualcosa di nuovo a livello aerodinamico, ha introdotto un'evoluzione di motore. Ecco quindi non si può dire che Honda non abbia lavorato, piuttosto si può dire che per il momento ha lavorato nella direzione sbagliata, per lo meno questo è quello che si percepisce dall'esterno. I numeri sono veramente impietosi, il miglior risultato ottenuto da un pilota Honda è il dodicesimo posto e nella classifica costruttori Honda è ultima, con 24 punti la metà di quelli conquistati da Yamaha, che non è che stia facendo così bene, è quasi 300 in meno rispetto a quelli ottenuti da Ducati. Anche il confronto con il 2023 è impietoso perché i punti in meno sono 65, nella passata stagione però c'era Mark Marquez e lui in qualche maniera cercava di metterci una pezza, ma anche lui non poteva fare chissà cosa. Ecco per il futuro potrebbero esserci importanti novità anche a livello umano, forse potrebbero arrivare anche molto presto, ma per il momento la strada per tornare competitivi sembra veramente lunghissima. L'arrivo di Alessio Spargarò, lo sappiamo come collaudatore e di qualche uomo Aprilia, perché qualche uomo Aprilia seguirà Alessio Spargarò in questa nuova avventura, è sicuramente una buona mossa, ma non è sufficiente per tornare ad altissimi livelli. Serve molto altro. Voto 4. Passiamo a un'altra casa giapponese, Yamaha. Qui il voto è un pochino migliore. Voto 5. La situazione in generale sembra migliore, anche se i risultati sono comunque negativi. 48 punti in totale nella classifica costruttori, 37 in meno del 2023. Un settimo posto come miglior risultato. Il lavoro svolto da Yamaha a partire da quest'inverno è stato tantissimo. Ciclistica profondamente modificata, aerodinamica continuamente aggiornata, elettronica, motore evolute con una differente configurazione già a partire dal Gran Premio d'Olanda. Però, come nel caso della Honda, si vedono pochi miglioramenti. Ma all'arrivo di Max Bartolini, il nuovo direttore tecnico di Yamaha, arrivato dalla Ducati, ha portato grande entusiasmo e un nuovo metodo di lavoro. Inoltre, non dimentichiamo che Yamaha è l'unica a non avere, per il momento, una squadra satellite e questo, inevitabilmente, rallenta tantissimo il lavoro di sviluppo. Insomma, le scusanti ci sono e, a differenza della rivale giapponese Honda, la sensazione è che sia stata imboccata la strada giusta, facendo le mosse che andavano fatte e altre ne verranno fatte a breve, anche per quanto riguarda il test team. Insomma, in definitiva, i risultati non si vedono e difficilmente si vedranno nel 2024, ma ci sono le possibilità per migliorare. Comunque, il voto è insufficiente. Voto 5. Passiamo al KTM. KTM è difficilissima da giudicare. Secondo me, il voto è 6,5. 6 pod in totale, divisi equamente tra sprint e gara. Troppo poco, perlomeno secondo le mie aspettative. Come era già successo nel 2023, anche quest'anno KTM è partita forte, prima con Brad Binder, che aveva fatto due podi nella gara inaugurale in Qatar, e poi con Pedro Acosta. Ma con il passare del tempo, la competitività sembra diminuire, invece che aumentare. Era già successo anche l'anno scorso. La casa austriaca è stata tenuta a galla in qualche maniera da Costa, non soltanto come prestazioni, ma anche insomma come far parlare di Acosta e quindi di conseguenza anche di KTM. Anche se Binder, bisogna sottolinearlo, ha solo due punti in meno nella classifica generale, rispetto al due volte campione del mondo, e Binder è sempre arrivato al traguardo in gara e sempre nei 10. Ma non riesce più a essere veloce e incisivo come l'ora in passato. Ci siamo quasi dimenticati di alcuni suoi sorpassi, di quei sorpassi che ci facevano tanto entusiasmare. Sicuramente io credo che la RC16 abbia un grande potenziale, ma spesso e spesso la sensazione, perlomeno la mia, è che in questo momento la competitività della moto sia migliore rispetto ai risultati ottenuti, ma i numeri al momento sono decisamente negativi, come confermano anche i sette punti meno conquistati dopo 9 GP rispetto al 2023. Il mancato rinnovo del contratto all'ingegnere Fabiano Sterlacchini, che ha indubbiamente fatto crescere la moto in questi anni, sembra dovuto anche alla mancanza di risultati. Insomma, KTM però dovrà anche trovare un sostituto all'altezza dell'ingegnere Sterlacchini. Allora, in definitiva, io do 6,5 alla KTM, credo che la KTM sia comunque cresciuta anche quest'anno, ma le mie aspettative erano decisamente più alte. Allora passiamo all'Aprilia, Aprilia RSGP, secondo me il voto è 8,5. Allora si discute spesso tra gli appassionati, anche dentro al paddocker, tra noi addetti ai lavori, se sia superiore complessivamente, se è superiore KTM o Aprilia. Ecco, per me, fino adesso, in queste prime nove gare, Aprilia è stata sicuramente davanti a KTM, mentre non sono così convinto che sia più competitiva anche della Ducati nella sua versione 2023. Quindi, se sia più competitiva della GP23. Qui ho qualche dubbio. Stando ai risultati complessivi, sembrerebbe di no, ma l'Aprilia, non dimentichiamolo, ha vinto due sprint, una con Alecce Spargarò e una con Vignales, e una gara con Vignales. È l'unica moto che è riuscita a battere la Ducati. Ecco, questo io credo che debba essere tenuto in considerazione. La RS GP è certamente un'ottima moto, ma stando a quanto spiegano i piloti, ma anche alcuni tecnici, è piuttosto impegnativa e difficile, ancora troppo condizionata dalle caratteristiche del singolo circuito. Inoltre, io credo che vada sottolineato come il percorso di crescita complessiva, quindi anche all'interno del box, non sia ancora stato completato. Si commettono ancora sbagli di inesperienza. In ogni caso, siamo ad alti livelli, 22 punti in più rispetto al 2023. E, ripeto, un dettaglio, secondo me, molto importante, è l'unica moto che è riuscita a battere la Ducati. Ecco, per quanto riguarda la Ducati, io ho separato la GP23 e la GP24, no? Perché la discussione degli appassionati sappiamo che si divide molto su questo argomento. Allora, il voto alla Ducati GP23, secondo me, è 8,5. Allora, intanto togliamo qualche dubbio, perché in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, ho letto è la versione 23 di inizio anno, è la versione 23 di Zarko, è l'ultima versione... Allora, cerchiamo di fare chiarezza, la versione 2020... Quale versione della GP23 stanno utilizzando i piloti nel 2024? Di fatto è la versione di Mestà stagione 2023, aggiornata nell'aerodinamica e in altre parti a partire dai test di Erez. Quindi è una GP23 del tutto simile a quella utilizzata da Bagnaglia e dagli altri piloti ufficiali nel finale della scorsa stagione. Quindi una moto super competitiva, che se l'è giocata alla pari, secondo il mio punto di vista, perlomeno fino alle mani, Gran Premio di Francia, quinto appuntamento stagionale. Mark Marquez, lui, vero, non altri piloti, lui fa la differenza, però Mark Marquez con la GP23 avrebbe potuto vincere a Dostin, se non fosse caduto, e anche in Francia, e forse anche in Spagna, se non avesse sbagliato in prova. E non dimentichiamo che anche al Saksering, la GP23, non è sembrata così inferiore alla GP24. Insomma, è complessivamente un'ottima moto, ma come si era già visto l'anno scorso, non è una moto facile chiedere a Enea Bastianini per conferma, come dimostrano anche le difficoltà di Marco Bezzecchi, che con la GP22 aveva ottenuto grandi risultati, e con la GP23 fa fatica. Bezzecchi, comunque, un podio è riuscito a conquistarlo. Ecco, nel complesso, Ducati nella versione GP23 ha ottenuto 0 vittorie, ha ottenuto 5 podi nella sprint, tutti con Mark Marquez, e 6 podi nei GP con 3 piloti differenti, Mark Marquez, Alex Marquez e Marco Bezzecchi. Ecco, per me il voto della Desmo 16 GP è 8,5. Ancora non ho le idee chiare se sia migliore dell'Aprilia RS GP 2024 o no, comunque è una moto di altissimo livello. E adesso veniamo alla GP24, alla dominatrice, fino adesso, voto per me 9,5. 8 GP e 6 sprint vinte su 9. Si può parlare di dominio. Durante l'inverno la GP24 aveva mostrato una grandissima competitività. Poi, però, nell'inizio del campionato non è stato così semplice come si poteva immaginare. In più di un'occasione, a mio modo di vedere, all'inizio del campionato, parlo, sono stati i due piloti più forti, cioè Pecco Bagnaglia e Orghe Martini, a fare la differenza. A partire da Barcellona, la forbice con la GP23 è sembrata aumentare e adesso la GP24 non sembra avere grandi difetti, anche perché le squadre sono riuscite a trovare un'ottima base. Inoltre, Ducati, ma questo vale anche per la GP23, migliora tantissimo nelle sue prestazioni complessive da venerdì alla domenica. Questo conferma che tutto il sistema, tutto il pacchetto Ducati funziona alla meraviglia. Una curiosità, rispetto alle prime gare del 2023, Ducati, nella classifica costruttori, ha totalizzato due punti in meno. Ecco, comunque la Ducati GP24 è una grandissima moto, secondo me il voto è 9,5. È questa la notizia in prima fila di oggi. Io sono lo ZAM, vorrei sapere la vostra opinione. Grazie a tutti!